A questo punto potrebbe pareggiare tecnicamente se avesse la 5 dei gemelli con due motori, sendo lui grande specialista di due ruote motrici. Vola, vola, colpo di scena, vola via il cofano, vola via il cofano, colpo di scena, un quick hate più spettacolare di così non si può, colpo di scena, ci sbullona il cofano.